Per qualsiasi informazione puoi visitare il sito oppure mandare l'email per avere notizie e approfondimenti sul futuro progetto. La piazza di Cristoforo Colombo, appena arriva Ostia lo vedrà subito. La piazza di Cristoforo Colombo La piazza di Cristoforo Colombo La piazza di Ciudad Marcini La piazza di Cristoforo Lola isposito Grazie.